Ancora buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale Capriamo con la crisi di governo dopo l'incontro di ieri sera tra il Premier Conte e il Capo dello Stato Mattarella al quale Conte ha promesso che allargerà la maggioranza L'incontro ha comunque portato alla soluzione che non ci sarà un Conte-Terre ma una sorta di seconda fase del governo Conte-2 senza Matteo Renzi e senza Italia Viva Oggi toccherà salire al colle ai leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia Ieri intanto, primo vertice di maggioranza senza Italia Viva Conte ha incontrato rappresentanti di PD, Movimento 5 Stelle e l'EU con i quali sono stati concordati i prossimi passi La priorità è quella di blindare il governo allargando la maggioranza Si tratterebbe di convincere almeno 5 senatori in meno di una settimana perché mercoledì 27 gennaio Camera e Senato voteranno la relazione sullo Stato della Giustizia del ministro Alfonso Bonafede Italia Viva pare voterà contro Serve rimpolpare il numero di senatori a sostegno del governo per evitare una nuova crisi Step successivi saranno il patto di legislatura e quindi il rimpasto Gli spostamenti e i rientri verso le seconde case sono consentiti ma solo per i proprietari di una abitazione Ora è ufficiale, il governo ha fatto finalmente chiarezza su uno dei quesiti più discussi dal 16 gennaio ovvero dall'entrata in vigore del decreto legge e del DPCM del 14 gennaio che hanno introdotto le nuove limitazioni anti-covid Le disposizioni in vigore consentono dunque di fare rientro nella seconda abitazione anche fuori regione purché si possa comprovare di essere titolari dell'immobile La casa di destinazione non deve però essere abitata da persone differenti da quelle appartenenti al nucleo familiare titolare della proprietà Non è ancora possibile in Friuli Venezia Giulia così come in altre regioni italiane programmare le vaccinazioni per persone disabili e ultraottantenni che rappresentano una quota importante della popolazione Colpa dei ritardi della Pfizer rispetto ai quali il governo ha attivato la vocatura dello Stato e oggi la questione è anche al centro di un vertice dell'Unione Europea I ritardi della Pfizer fanno slittare anche in Friuli Venezia Giulia le vaccinazioni a favore di persone disabili e ultraottantenni Al momento non ci sono certezze sui tempi di consegna quindi in regione si procede con i richiami ma non con le prime vaccinazioni Impossibile in queste condizioni riaprire le agende per le prenotazioni Il problema sono i due elementi su quali costruire il futuro della campagna vaccinale che è l'unico vero strumento che ci consentirà di contrastare l'epidemia quindi il numero delle dosi e i flussi di consegna quindi è evidente che noi aspettiamo in assenza di autorizzazioni di altri vaccini di poter organizzare quella campagna vaccinale che fino adesso aveva dato dei risultati importanti ma sulla quale noi siamo stati costretti al pari di tante altre regioni a bloccare le prime dosi e a proseguire con i richiami per avere la garanzia di non buttare via il lavoro fatto finora È un po' difficile riuscire a fare una programmazione davanti a questi dati incerti quindi tutti auspichiamo che queste diventino certezze per poter proseguire a fare questo lavoro che una volta completata la prima fase che vede un'adesione importante nella nostra regione poi si possa passare agli altri due famiglie importanti di priorità che sono i disabili e gli over 80 che in questa regione sono anche molto numerosi Intanto il governo italiano ha attivato l'avvocatura generale dello Stato per valutare i diversi profili di responsabilità della casa farmaceutica Pfizer in caso di inadempienza e le possibili azioni da mettere in campo a tutela degli interessi del paese e dei cittadini In questo senso è stato chiesto supporto alle regioni Il commissario per l'emergenza Arcuri avrebbe sottolineato che spetta all'UE promuovere l'azione legale e che il foro competente è quello di Bruxelles tema questo oggi al centro di un vertice UE in videoconferenza Questa mattina alle 10.30 incendio in un'abitazione a Ciconico di Fagagna andiamo subito da Paola Treppo allora per gli aggiornamenti Paola buongiorno a te Sì Francesca è un periodo di incendi purtroppo a causa del riscaldamento spesso di canne fumari o di malfunzionamenti di sistemi di riscaldamento in questo caso le cause sono ancora in corso di accertamento e i vigili del fuoco stanno operando in questa billetta che vediamo alle nostre spalle sul posto ci sono i vigili del fuoco del comando di Udine con un carro aria, con un autobot, la prima partenza e anche un supporto dal distaccamento di Gemona del Friuli per contenere le fiamme ed evitare che possano estendersi anche al resto dell'abitazione al momento quello che possiamo dirvi è che l'incendio si è sviluppato nella parte sotterranea pare in una cantina dell'abitazione che è di difficile raggiungimento non ci sono comunque al momento persone che sono rimaste ferite o intossicate poco fa abbiamo visto anche il passaggio di una pattuglia dei carabinieri per un controllo e qui da Fagagna per il momento Francesca è tutto, ti restituisco la linea Grazie a Paola Treppo il Tribunale ha sancito l'illegittimità della procedura di riammissione attuata al confine orientale italiano sulla base di un accordo siglato tra Italia e Slovenia nel 1996 mai ratificato dal Parlamento italiano secondo la sentenza le riammissioni del Ministero dell'Interno hanno esposto consapevolmente i richiedenti asilo a trattamenti inumani e degradanti lungo la ruota balcanica e a torture in Croazia il Tribunale di Roma ha accolto ricorso urgente presentato da un cittadino pakistano respinto dall'Italia nel luglio 2020 richiedente asilo una volta giunto a Trieste li ha messo in Slovenia da qui in Croazia e quindi in Bosnia secondo un meccanismo consolidato di riammissioni a catena i giudici hanno stabilito che ha diritto a fare immediato ingresso in Italia e a poter richiedere asilo politico il cittadino straniero illegalmente riammesso in Slovenia e poi in Bosnia sulla base dell'accordo tra Italia e Slovenia la presenza sospetta di tre albanesi in un bed and breakfast di Saci l'ha fatto scattare i controlli della questura di Pordenone dopo le verifiche uno è stato arrestato, uno rimpatriato e per l'altro è stato disposto il foglio di via obbligatorio un terzetto con non di certo buone intenzioni aveva preso una camera in un bed and breakfast di Saci l'ha ma la sospetta presenza è stata subito segnalata alla questura di Pordenone attraverso l'allert system alloggiati le verifiche immediatamente scattate da parte dei poliziotti hanno portato all'identificazione dei tre albanesi tra i 25 e i 27 anni che peraltro avevano violato la zona arancione senza motivo e per questo sono stati sanzionati su uno di loro pendeva un ordine di esecuzione di carcerazione disposto dal tribunale di Lodi e per questo il 25enne è stato arrestato e portato in carcere un altro è risultato essere gravato da numerosi precedenti di polizia per furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli con arresto in flagranza avvenuto nell'aprile 2017 per furto in abitazione commesso a Bologna oltre ad avere precedenti di polizia per porto d'armi e di oggetti atti ad offendere e guida senza patente per lui il questore ha disposto il foglio di via obbligatorio per tre anni e l'immediato ritorno in Emilia Romagna dove risiede infine il terzo elemento del gruppo è risultato irregolare sul territorio nazionale in quanto privo di permesso di soggiorno e senza fissa di mora l'uomo è stato rimpatriato oggi con un volo Venezia-Tirana Turisti non per caso non sapevano infatti dare spiegazione alcuna sulla loro presenza in Priuri ma più che un terzetto di giovani amici alle prese con una gita fuori porta pare fosse una vera e propria banda giunta a Sacile spinta da ragioni tutt'altro che culturali e formative il più giovane è stato arrestato il secondo è stato espulso il terzo è rispedito nel suo paese di origine due saloni di parrucchiera sono stati chiusi in borgostazione a Udia e dai carabinieri del NIL perché occupavano persone senza permessi di soggiorno e l'attività di entrambi i negozi è stata sospesa nell'ambito dei servizi di controllo finalizzati alla verifica del rispetto delle norme anti-covid e delle norme in materia di lavoro i carabinieri del NIL e il nucleo ispettorato del lavoro di Udine hanno eseguito nei giorni scorsi due accessi ispettivi in borgostazione nel capoluogo friulano in due distinte attività di parrucchiera all'esito dei monitoraggi i titolari di entrambi i saloni sono stati denunciati in stato di libertà per aver occupato le proprie dipendenze cittadini extracomunitari che non avevano il permesso di soggiorno le attività imprenditoriali di conseguenza sono state sospese e sono state elevate sanzioni amministrative per 11.920 euro sono state rilevate pure violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed elevate ammende per 5.461 euro Un'autogru si è pericolosamente ribaltata a Marano Lagunare in via Serenissima, lato del molo che costeggia il canale Taglio nessuno è rimasto ferito l'incidente si è verificato questa mattina alle 9.50 durante alcune operazioni di collaudo la caduta è stata causata dal malfunzionamento del computer che non ha attivato l'allarme anti-ribaltamento Questa mattina a Trieste si è tenuto l'ultimo atto formale che conclude l'iter per l'intitolazione del tratto di strada antistante l'ingresso principale della questura a Matteo De Menego e Pierluigi Rotta i due agenti di polizia, i due figli delle stelle caduti in servizio il 4 ottobre del 2019 Questa mattina il questore Irene Titoni ha ricevuto l'assessore comunale di Trieste Michele Lobianco con delega alle risorse umane e ai servizi demografici e toponomastica nel corso dell'incontro Lobianco ha consegnato al questore la targa in metallo ceramica che riporta il numero civico che connota lo stabile La forma dell'infinito è il titolo della prima mostra a livello internazionale che curata da Don Alessio Geretti sarà ospitata a Udine a casa Cavazzini a partire dal mese di ottobre oggi il via ufficiale ai lavori di adeguamento della struttura museale Un saluto ai nostri amici telespettatori mi trovo a casa Cavazzini a Udine dove oggi sono stati consegnati ufficialmente i lavori per l'adeguamento della struttura affinché possa ospitare delle opere a livello internazionale Ci sarà un forte rinnovamento di questa struttura ma soprattutto la metteremo in sicurezza per permettere di ospitare opere di grandissimo valore che i musei di tutto il mondo ci presteranno per questo appuntamento che è ad ottobre ma in ogni caso i lavori sono utili perché danno a casa Cavazzini la possibilità di rinnovarsi e di adeguarsi anche alle nuove tecnologie per quanto riguarda la climatizzazione e anche l'uso dell'illuminazione È un lavoro impegnativo perché sono 1.200.000 euro Oggi la ditta di Betta ha iniziato in pratica i lavori dovranno terminarli per i primi di luglio per essere pronti poi a ottobre ad ospitare questa importante mostra che darà forza alla città Udine tornerà a essere anche una città della cultura perché pensiamo che con questa esposizione di poter attirare tanti visitatori che ritorneranno in città ad ammirare queste importantissime opere Ci fermiamo qui tra poco vi ricordo l'appuntamento con a voi La Lina Grazie per l'attenzione Arrivederci Grazie a tutti